Ultimi ritocchi, poi via la sistemazione degli arredi e sabato mattina, alla presenza delle autorità e dei cittadini, l'inaugurazione della nuova Mensa di Gaggiola. Una realtà immensa, veramente dopo tanto tempo, ma velocemente, riusciamo a inaugurare questo luogo che diventerà uno spazio di attenzione e di vicinanza alla nostra gente. Non solo la Mensa per le persone che hanno bisogno, ma anche un luogo di incontro e di ascolto per la città. Certamente, più che un progetto, noi vorremmo mettere un processo in essere, cioè vorremmo creare un luogo dove le persone si sentano accolte e un luogo dal quale raccogliere le esigenze delle tante uomini e donne che ogni giorno vengono a trovarci e che ci vengono a esporre i loro problemi, i loro drammi, ma anche le loro speranze. Frutto della generosità, oggi inizia un altro impegnativo percorso di solidarietà che avrà bisogno di sostegno e di calore umano. Certamente, i giorni scorsi un grande quotidiano nazionale diceva che questo sembra il tempo della non decisione e delle non scelte. Questo tangibilmente ci dimostra che si può creare un progetto e lo si può costruire in poco tempo, attraverso l'aiuto di tante persone e di tanti sguardi. Certamente, come dicevi, avremo bisogno di nuovi volontari, siamo tantissimi, però ci rendiamo conto che questo luogo chiederà un ulteriore sforzo, che la città certamente farà proprio. Sabato sarà il momento anche dei ringraziamenti particolari. Un primo ringraziamento è certamente a colui che l'ha donato e di cui faremo poi memoria, un medico della nostra città che, morendo, ha lasciato il frutto del suo lavoro proprio per questa finalità. Ma un ringraziamento va certamente alle istituzioni che ci hanno permesso di costruire celermente questo luogo e ai tanti professionisti che lo hanno reso possibile. Vogliamo ricordare l'appuntamento di sabato? Allora, l'appuntamento di sabato mattina sarà alle 10.30, sarà rivolto principalmente alle autorità civili e militari. Noi poi avremo un momento nel quale inviteremo tutti i volontari e dove vivremo la dimensione della festa e dell'incontro. Però certamente sabato alle 10.30 inizia una storia nuova, uno sguardo nuovo, una svolta anche per la nostra città.